Nella puntata precedente. C'è una palla là in fondo. Palla! No, no, l'ho, cioè sì, l'ho, ma è un po' esagerato. C'è un po' esagerato. C'è un po' esagerato, c'è un po' esagerato. C'è un po' esagerato. Ehm... Oh, mio Dio. Allora... Da italiano prenderei un cappuccino e una brioche, ma non c'è... Questo? No, la mattina presto proprio... Anche no. Waffle. Un po' esagerato. Un po' esagerato quando ero 13 anni. Quindi... Non ti preoccupa. Dove stai andando? Non mettere musica con copyright ti ammazzo. Ehm... Caffè? Questo cos'è? Questo cos'è? Un po' esagerato. Un po' esagerato. Oh, sì, c'è un po' esagerato. Oh, sì, cofè. Tu sarai mio. Lo bevi... Lo bevo tutto. Bevilo tutto. Ehm... Tu c'è un po' esagerato. Tu c'è un po' esagerato. Tu c'è un po' esagerato. C'è un po' esagerato. Tu c'è un po' esagerato? Oh, mio Dio, mamma. Non ti dà Max a una cosa per questo. Ella s'ilprimò. C'è un po' esagerato. Max è una buona chica. Una... È 18 anni. È troppo vecchio da te oberi leccionari o tu, Sgt. Pepper. Call'o David, se non vuoi essere leccionari. Tu solo ti dà un po' esagerato di bacon per giorno. Tu te sei ancora la stessa. Un'altra ragazza per farci la città. Che c'è questa c***a sulla pioggia? Ora che questo è fuori... Parliamo di tua superpoglia. Non ho nessuna esplomazione. E non posso raccontare perché ho visto questo f***o tornado. E come facciamo? Si torna indietro. Si torna indietro. Iniziamo lentamente. Allora, ora. Mmh... Potrei dire ogni cosa che hai nei vostri occhi. Tu hai visione x-ray? Non so neanche cosa è nei miei occhi. Vediamo. Ok, Max. Impressami. Allora... Gomma da masticare. Gomma da... Gomma da masticare? Non... 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 Impressami. Ok, ragazza psichica. Vediamo cosa è in miei occhi. Grazie. Posso riavvolgere? Ok, Max. Studi tutti tutti gli occhi. Non preoccuparti. Non preoccuparti. Ah... Chiavi col panda. Sigarette. Soldi. E... Un... Ticket per non una multa. Mi sa che è una multa. Mi sa che e' una multa. Allora... Molta persona sta vietata Un ticket parking. Mi conosci bene. Ma... Qual è l'esercito tempo che ero bruciata? Che minchia ne so! Ehm... 10.34. 10.34. Booyah! Max puoi capire il tempo! Anche una clocka bruciata è giusta di due a giorno. Cosa significa? Ehm... sigarette. Sono sicura che hai delle sigarette? Sì, sai che sono un smoker. Ma quante sigarette? S... erano... sei o sette... cazzo. Sette! Dispari! Sette! Dispari! Un super power che ti permette di spiegare sigarette! Sì! Che cosa altro in miei pochetti? Chiavi col panda! Quelle me le ricordo! Non mi chiedere i soldi, ti prego! No, è troppo facile! Ho bisogno dei dettagli! Descrivi la mia schiena! Panda! Ehm... Panda! Un schiena cute robot panda. Non male, Supermax! Ehm... i soldi! Che minchia ne so! Che minchia ne so! Uno di quelli... grossi vale quindici! Quindi quindici trenta quarantacinque minimo! Quindi sono ottantadue ottantasei! A meno che non vale cinque! Non ne ho idea! Ottantadue? Ehm... 82 centi! I wish! Ok, psichica girl! Let me show you what's actually in my pocket! Sì, eh, vorrei... solo i soldi mi interessano, perché per il resto li so! Ok, Max! Sì, lo so, lo so! Quanto valgono questi? Ah, quello vale cinque! Un quarto, quindi vale... ...venticinque! ...venticinque, cinquanta, settantacinque... ...ottanta... ...ottantuno, ottantadue, ottanta tre, ottanta quattro, ottanta cinque... ...ottantasei! Ok... ...allora... No, non farò di nuovo... ...perchè è troppo lungo! Dai, dai! Ottantasei! Ok, Max! Devo ripetere tutto... ...allora... ...molta personalità... ...dietà... ...a che ora? Undici... ...dieci e trenta quattro... ...ehm... ...sigarette erano sette... ...sigarette erano sette... ...ok... ...poi... ...forse chiavi... ...panda... ...e soldi erano... ...ottantasei, ottantasette... ...ottantasei! ...e soldi erano... ...ottantasei! ...ottantasei! ... ...ci ho presa in pieno! ... 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 Sì! 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 Sono meglio! Io non ho tempo. Sì, è quello che ho fatto. Tu puoi riuscire il tempo, Max. E' assolutamente vero! Io non ho tempo. Non avevi solo detto. E poi anche se fosse... Oh, guarda il tuo naso. È troppo forte? È troppo forte? È troppo forte. Vediamo cosa succede quando riusciamo ancora. Allora... Andiamo a una delle mie leggi segreti e testiamo il tuo potere. Il punto è che se io riavvolgo il tempo, anche se andiamo a fare... Cazzate! Poi riavvolgo il tempo, lei non si ricorda più niente. Quindi non avrebbe senso. E mi ricordo quale tipo di s***** che ha in mente. Camoio... No, no, scusa, scusa, eh. Camoionista. Camoio... Non si scrive così camionista. Almeno non che io sappia. Ok, Supergirl. Andiamo al mio segreto. Non neanche rispondi. Abbiamo un paese da andare. E... 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 E' Kate Marsh. Da Blackwell. Big whoop. Non mi chiamate una volta in cinque anni e ora sei tutta una bianca che vedete ogni giorno a scuola? Vedo come si riavola. Quindi andate. Chattate Kate Marsh da Blackwell. Ho altre persone da s***** con. Devo rispondere. Sennò quella si fa fuori. Mi spiace. Hey Kate. What's up? Please, don't let your best friend get in the way. You okay? I promise Kate. I won't forget. Che cosa? I swear. Just do your homework and don't stress. I really don't think we should go into this right now. I'll call you later, okay? Okay. Thanks, Max. If you'd rather chill with Kate, please, go ahead. You are ridiculous. I'm chilling with you, okay? For now. Let's rock. No. Non credo proprio. E invece non la vedresti. Sono abbastanza certa. Chi è questo? Oddio, è quello che ci mette sul treno. Sui binari del treno, sicuro. Ok. Per oggi, io smetto. Appena ho di nuovo il controllo del personaggio. È una discarica. Continua. Quante volte mi fai freddo? Mi fai freddo. Questo dipende da te e quanto bene ti fai in questa fase della testa. Benvenuti all'America Rust, il mio casa da fuori da Hell. Raw and rough. Ti fai freddo. Max, sai quanto è fantastico? Ho tornato il mio migliore amico e è anche super-sized? Non sappiamo quanto tempo. Esatto perché è il momento di divertirsi! Anche perché perdo sangue dal naso e non credo che sia una cosa positiva. Cosa? Cosa? Certo! Certo!